Le prospettive dei collegamenti in Abruzzo, sia aerei che ferroviari, ma anche autostradali, non promettono bene. Non è un allarme qualsiasi quello di questa mattina lanciato da confesercenti che lamenta per l'aeroporto d'Abruzzo una totale assenza di governance e riferimento al posto vacante di direttore generale. Sta facilitando questo vero e proprio attacco da parte delle compagnie aeree che approfittano della situazione. È una situazione che non è più sostenibile proprio in un momento in cui il turismo sta cambiando. Abbiamo avuto un meno 6% delle presenze nazionali, ma un più 8% di presenze internazionali. E in questo nuovo scenario come le intercettiamo queste presenze in assenza di un aeroporto? Ma vi dirò anche di più, sta cambiando anche la legge sull'università. Da quest'anno l'Erasmus sarà nazionale e non più internazionale. E come aiutiamo le nostre università senza un aeroporto capace di mettere in relazione le città e gli Atenei? Tutto questo non è proprio sopportabile. Se poi lo mettiamo anche in relazione con il traffico ferroviario, che per esempio vede 66 treni frecciarossa nelle Marche e 22 nell'Abruzzo con orario estivo, 60 treni nelle Marche e 21 nell'Abruzzo con orario invernale, direi che come minimo ci sentiamo di serie B. E se anche l'alzata di scudi arriva dalle organizzazioni di rappresentanza del turismo, non si può certo dimenticare il comparto industriale. A che serve una ZES, una zona economica speciale che risponde a logiche di facilitazione di insediamenti produttivi se mancano le infrastrutture. Ida Arway, se ricordiamo un anno fa, furono cambiati gli orari, quindi spostati in orari poco consoni. Dopo un anno chiudono il collegamento con Linate. Oggi Ryanair, che comunque inizia a nostro avviso anch'essa un disimpegno preoccupante. Per questo si aggiunge una totale mancanza di investimenti sulle ferrovie e sull'autostrada. Tenete presente che la Bari-Napoli-Roma, l'alta velocità, già si sta costruendo. Quindi rischiamo che neanche più i pugliesi passino per l'Abruzzo.